Salute Attesissima dal folto numero di appassionati torna per la quindicesima edizione una delle rassegne musicali estive tra le più apprezzate del cartellone pescarese Musica Art nel parco di Villa Sabucchi Attesissima come manifestazione, quest'anno è arricchita moltissimo ci saranno 17 appuntamenti con una varietà tale di musica che per tutti i gusti, quindi veramente un densissimo calendario Poi tra l'altro in una zona di pregio di Pescara Sì, Villa Sabucchi, ci sarà comunque anche un concerto nella chiesa di Sant'Antonio che sarà dedicata a tutta la musica sacra L'inaugurazione domani sera con l'esibizione del coro Cappella Arts Musicalis Tutti i concerti avranno ingresso gratuito e inizieranno alle 21.15 Molto ampia la proposta fino a metà agosto Musica leggera, classica, napoletana, jazz e la predilezione verso la valorizzazione di talenti locali Nelle serate dei concerti faranno opera di sensibilizzazione verso le loro campagne i volontari di Amnesty International Particolare soddisfazione per la direttrice artistica di musicarte Maria Gabriella Castiglione per il conseguimento della medaglia d'oro conferita dal Presidente della Repubblica È il quarto anno che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano sensibile alla musica colta e anche alle ragioni sociali del nostro mondo ha voluto dare un grande riconoscimento C'è una pergamena, è una bella medaglia, del tutto inaspettata questa manifestazione che dopo 15 anni ha raggiunto veramente un grande successo di pubblico e di critica perché io cerco sempre di unire un po' tutte le varie sfaccettature della musica quindi sono presenti in cartellone sia concerti di musica classica, resital di solisti poi c'è anche concerti di musica più moderna con i cori, balletti e quant'altro ed è presente ad ogni appuntamento anche Amnesty International Tutto quest'anno ho voluto a 360 gradi